Musica In questa puntata di Unicam News, presentata venerdì in Ateneo la nuova campagna di comunicazione Unicam. Al via le iniziative estive di orientamento alla scelta universitaria con porte aperte in Unicam e gli Open Day. Lavoro di ricerca dei chimici Unicam pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS. Qualità degli alimenti e salute del consumatore, se ne è parlato ad Unicam. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Unicam News, avete sentito i titoli, allora partiamo subito dal primo servizio. Il rettore Flavio Corradini e il rettore eletto Claudio Pettinari hanno presentato venerdì scorso in Ateneo la nuova campagna di comunicazione dell'Università di Camerino in vista dell'apertura delle iscrizioni all'anno accademico 2017-2018. Presenti anche il prorettore vicario designato Graziano Leoni e la presidente del Consiglio degli studenti Francesca Borghetti, nonché quasi tutti gli studenti che hanno partecipato. Voi, il nostro sguardo più bello è il payoff scelto quest'anno. Protagonisti ancora una volta, come di consuetudine, negli ultimi anni, gli studenti iscritti all'Ateneo che si fanno testimonial della loro positiva esperienza di studio e di vita. Lo sguardo di Unicam, metaforicamente rappresentato da un paio di occhiali a specchio, riflette l'immagine degli studenti. È per gli studenti e con gli studenti che Unicam ha reagito subito dopo il sisma, con grinta e determinazione. È sempre guardando agli studenti che Unicam è riuscita anche quest'anno a mantenere il primo posto nelle classifiche censi, se a migliorarsi ogni anno nella didattica e nella ricerca. Ma in questo payoff c'è anche il ringraziamento di Unicam alle studentesse e agli studenti, colonne portanti della comunità universitaria, che sostengono tutte le scelte ed apprezzano tutti gli sforzi profusi dall'Ateneo. Sempre nelle campagne di promozione e di comunicazione, almeno dal mio rettorato, abbiamo visto gli studenti in prima persona, quest'anno però evidentemente con una sensibilità ancora diversa degli anni passati. Infatti l'immagine è l'immagine dell'Ateneo che guarda allo studente di riflesso per dire che per noi, per l'Università di Camerino, le studentesse e gli studenti costituiscono la priorità, l'amore principale, ma c'è in prima istanza il volto di uno studente proprio ad indicare e ad enfatizzare che gli studenti ci hanno voluto mettere la faccia in questi ultimi mesi come in passato. E questo ci onora e quindi questi due riflessi che si incontrano costituiscono un momento di osmosi e lo stesso sguardo che si proietta sul presente e sul futuro. Siamo davvero a ringraziare gli studenti, le loro famiglie per stare con noi, con questa passione, con questo senso di appartenenza. L'Università di Camerino non tradirà mai questo stile e questo modo di pensare e di ragionare. L'altra questione è evidentemente il riconoscimento che abbiamo avuto qualche giorno fa dalle classifiche di Censis Repubblica che ci vedono ancora una volta al primo posto tra le università di pari dimensioni, ma quello che ci gratifica ancora e ancora e ancora è il quarto posto assoluto a livello nazionale tra tutte le università pubbliche nel nostro paese. Quindi evidentemente un riconoscimento e una riconferma che le università sono un capitale importantissimo, capitale umano e culturale e ancora una volta che va oltre la dimensionalità. Su questo noi evidentemente continueremo ad investire e la scelta di guardare e di riflettere i due sguardi lo studente che guarda la sua università e la sua università che guarda lo studente e lo pone in priorità, questa strategia è una strategia assolutamente ancora una volta da perseguire con grandissima forza e determinazione e sono sicuro che il nuovo rettore andrà anche esso in questa direzione. Questi sei anni sono stati di grande condivisione con il rettore che ha un grande carattere ma anche una grande anima e ha sempre condiviso le sue scelte con la squadra, ci ha reso coscienti e ci ha fatto scegliere insieme a lui, non dico solamente le campagne di comunicazione ma le vere scelte importanti di questo Ateneo. Questo ha fatto sì che questo Ateneo oggi sia comunque un Ateneo solido. La classifica di Repubblica Censis ci riempie di orgoglio, i nostri bilanci si chiudono sempre in attivo nonostante tante difficoltà e ci fanno guardare al futuro. Siamo partiti con i lavori, convinti che ce l'avremmo potuta fare e diciamo con le nostre risorse. Ognuno di noi ha ricevuto da questa università qualcosa e cercheremo di restituirla. L'emozione è forte, sappiamo che avremo un compito sicuramente complesso, voglio dire complesso, non complicato. Il che significa che lo potremo assolvere, potremo risolvere i problemi che si affronteranno di volta in volta uniti, coesi, cercando sempre di guardare agli studenti come faro principale, il rettore lo ha detto chiaramente guardando alla nostra comunità accademica, al personale tecnico e amministrativo cercando di metterli nelle migliori condizioni lavorative, guardando al territorio, al tessuto urbano, quello che è rimasto al territorio della nostra regione, come un punto importante dove espletare le nostre attività. Al via le iniziative di orientamento alla scelta universitaria. In vista dell'apertura delle matricolazioni al nuovo anno accademico, infatti, ritorna l'appuntamento con Porti Aperti in Unicam, iniziativa promossa dal servizio orientamento proprio nel periodo in cui gli studenti che devono scegliere il percorso universitario hanno bisogno di avere maggiori informazioni e chiarire eventuali dubbi. L'iniziativa è in programma dal 12 al 28 luglio e poi ancora dal 21 al 31 agosto presso le sedi Unicam di Camerino, Matelica, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Sarà possibile conoscere Unicam, parlare direttamente con i docenti e visitare le aule, le biblioteche, i laboratori anche grazie agli open day organizzati per giovedì 20 luglio nelle sedi di Camerino, Matelica e Ascoli Piceno e venerdì 21 luglio a San Benedetto del Tronto. A Camerino e Matelica è previsto un appuntamento anche nel mese di settembre. Il calendario con tutte le informazioni è disponibile nel sito dell'Ateneo www.unicam.it Perché il rame e l'argento tendono a legarsi così fortemente all'oro? Quale energia li lega? È dall'osservazione di questi legami apparentemente particolari e dalle intense emissioni di luce che ne derivano che ha preso il via il progetto di ricerca condotto dalla professoressa Rossana Galassi, docente della sezione di chimica della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam, i cui risultati sono stati appena pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale PNAS, organo ufficiale dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. Questo lavoro di fatto è nato qui sulla sintesi e sulla caratterizzazione di composti che erano sì molto belli, eleganti, sofisticati, ma sulla loro chimica non molto si era capito. In realtà approfondendo e appunto aprendo anche nuovi orizzonti siamo arrivati a capire il perché questi composti si formano, quali sono le loro caratteristiche e soprattutto abbiamo capito che alcuni tipi di legami che sono coinvolti nella formazione di questi composti, voi immaginate che sono delle specie di mattonelle formate da tre triangolini di metalli, questi tendono ad impilarsi attraverso quelle che fino ad essere chiamate delle interazioni secondarie metallofiliche, secondarie significa che non sono molto forti e non erano ben caratterizzate. In realtà ora abbiamo capito che sono dei legami covalenti, esattamente alla stregua di tutti gli altri tipi di legami, quindi le energie che tengono insieme questi composti sono dello stesso tipo di quelli che legano tutti i composti che sono intorno a noi e che ci compongono. Questo è in realtà un risultato diciamo estremamente importante, per questo che ha avuto un forte impatto in questa rivista e siamo riusciti a pubblicare. Poi abbiamo avuto anche la spiegazione di una resa, si chiama resa quantica vicino all'unità. Che cosa significa? Che in realtà questi composti che sono appunto un po' particolari, contengono questo legame metallo-rame-metallo-oro, hanno la capacità di convertire tutti i fotoni che sono in entrata, quindi di luce assorbita, in fotoni in uscita, quindi in luce emessa. Si chiama una resa quantica vicino all'unità, che non è effettivamente una cosa così comune. Ed è qui anche l'applicazione. Quindi mi è piaciuto molto questo lavoro perché abbiamo studiato molti aspetti in sequenza, ad arrivare fino a un prototipo di un OLED, quindi di un substrato che contiene questo composto, che è appunto questa resa quantica inalterata, quindi questo è molto molto promettente per il futuro, insomma per l'applicazione di questi composti. Quindi un lavoro con molti aspetti, chimica di base, chimica applicata e chimica di coordinazione che alla fine ha portato a questo grande risultato. Alimenti e nutraceutici Qualità e salute del consumatore È stato il tema del secondo convegno a cura delle piattaforme tematiche di Ateneo su alimenti e nutrizione e salute umana e animale, coordinate rispettivamente dai professori Gianni Sagratini e Matteo Cerquetella. Si è trattato di un importante momento di discussione sui più recenti avanzamenti in ambito nutraceutico alimentare relativamente alla salute umana e a quell'animale, volto anche a far conoscere le potenzialità dei ricercatori Unicam. La seconda edizione del convegno delle piattaforme alimenti e nutrizione, salute umana e animale abbiamo scelto come tematica di parlare di alimenti e nutraceutici, qualità e salute del consumatore. Vogliamo farlo in maniera molto seria, vogliamo diffondere la cultura che gli alimenti per poter essere salutari, per poter far bene alla salute della persona, così come gli integratori, i nutraceutici, devono essere studiati, devono essere il frutto di una ricerca scientifica. Questo è l'unico modo in cui noi crediamo possa essere veramente importante per diffondere la cultura del vivere bene, del vivere in salute, attraverso l'utilizzo di alimenti e prodotti derivati da alimenti e da piante come appunto sono gli integratori e i nutraceutici. Quindi sicuramente qualità e ricerca scientifica per il benessere della popolazione. Siamo molto contenti perché questo convegno che è giunto alla seconda edizione quest'anno ha fatto numeri ancora più importanti rispetto a quelli dell'anno scorso, perché abbiamo avuto più del 30% in più di contributi da parte dei colleghi, abbiamo quasi raddoppiato le partecipazioni e crediamo anche vedendo gli iscritti che centri quelli che sono gli obiettivi, che le piattaforme si sono poste, che noi c'eravamo poste nel momento in cui le abbiamo proposte. E cioè quello di far conoscere all'interno di Unicam i ricercatori, quindi le loro tematiche e far conoscere queste tematiche all'esterno, quindi coinvolgendo le aziende e coinvolgendo i professionisti del territorio, invitando appunto i vari medici, medici veterinari, biologi nutrizionisti e farmacisti della regione Marche. Bene, finisce qui questa puntata di Unicam News. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi ricordiamo che tutte le informazioni relative all'Ateneo le potete trovare sul sito www.unicam.it. Grazie per essere stati con noi.